Un saluto a tutti gli amici del Shortini Film Festival di Augusta, ottava edizione. Devo dire la verità, quando mi hanno chiamato per fare un saluto al festival di qualche metraggio pensavo fosse riferito alla mia capacità sessuale, fortunatamente non è così. Un grandissimo in bocca al lupo a tutti quanti, un saluto ad Augusta, città meravigliosa, e al vostro festival. Ciao da Andrea Basumi, ciao a tutti!